Un artista poliedrico è stato insieme dicitore, giornalista, poeta, commediografo, cineasta, capo comico, uno dei protagonisti della stagione culturale del suo tempo, eppure dopo la scombarsa è entrato in un cono d'ombra da cui è giusto sottrarlo. Nino Mortoglio nasce a Belpasso il 3 dicembre del 1870, nasce nel quartiere del Purgatorio nella casa che fu di Rosario Pappalardo. Abbiamo alcuni documenti che ci attestano la presenza della famiglia Mortoglio a Belpasso proprio dal 1871. Mortoglio è, potremmo dire, un regista che comincia il mestiere della regia quando ancora non c'è nemmeno il termine. Il regista con Mortoglio comincia a diventare il vero e proprio autore dello spettacolo. L'avvento del cinematografo suscitò tra gli intellettuali una reazione fondamentalmente negativa. Mortoglio intuì subito, dal primo momento, le potenzialità che il cinematografo poteva avere e individuò subito quali erano i suoi limiti del momento. Fonda a Catania una casa di produzione cinematografica, cioè una Morgana Film, e a questo punto pensa, e lo fa effettivamente, di trasferire la Morgana che rifonda a Roma nel gennaio del 1914. Martoglio, nello stesso 1914, generale, uno dei capolavori del cinema muto, e cioè sperduti nel buio. Gli attori protagonisti sono sempre Giovanni Grasso e Virginia Balistrieri. Il rapporto fra Nino Martoglio e Giovanni Grasso è un rapporto che comincia sicuramente al Macchiavelli, un teatro fondato dal padre di Giovanni Grasso, Don Angelo Grasso. Nel 2018 il mio gruppo teatrale, Fabbrica Teatro, ha dovuto intestarsi una ricerca documentale che nel giro di poco tempo ha prodotto il rinvenimento del fascicolo delle indagini preliminari che fu svolto nei primi giorni, ai primissimi giorni immediatamente dopo il delitto.